Tano Longo è responsabile dell'Area Control Center di Abano Terme. Che cosa fate qui? Qui ad Abano Terme forniamo il servizio di controllo del traffico aereo per tutti i voli che atterrano e decollano dai aeroporti di competenza del centro e anche per tutti i voli che sorvolano il nord-est d'Italia. Quale spazio aereo coprite quindi? Lo spazio aereo è molto ampio, va dai confini nord del nostro Stato fino ad arrivare a sud di Ancona e per quanto riguarda l'ampiezza si parte dal lago di Garda e si arriva ai confini est fino al mare di Gatico. In pratica siete i controllori del traffico sui nostri cieli e che cosa vuol dire a livello di numeri? Quanti sono i velivoli che mediamente attraversano il nostro spazio aereo? Guardi, nelle giornate di picco estive si arriva a superare i 2.800 voli al giorno per attestarsi in questo periodo intorno ai 2.000 voli al giorno. Considera che l'usil, se te lo faccio, va 10 minuti, quindi alle 11.51 solo. Ma in prima paia l'usil, in prima Ionifanzierra, in via Libra. Grazie.